Un commerciante, Bruno Ielo, di 66 anni, titolare di una rivendita di tabacchi, è stato ucciso ieri sera in un agguato a Catona, frazione di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, Ielo, mentre rientrava a casa alla guida del proprio scooter, sarebbe stato affiancato da un otomezzo con a bordo almeno due persone che gli hanno sparato alcuni colpi di pistola. La morte del commerciante è stata istantanea. Ielo, nel momento dell'agguato, stava tornando a casa dopo aver chiuso la rivendita di tabacchi che gestiva nel quartiere gallico. Il commerciante era preceduto in auto da una delle figlie. Tra le prime ipotesi avanzate dagli investigatori, quella di un tentativo di rapina per sottrargli l'incasso della giornata. Ielo era armato, ma non ha fatto in tempo a prendere la pistola per difendersi. Già lo scorso anno il commerciante aveva subito un tentativo di rapina e anche in quell'occasione era stato fatto segno da alcuni colpi d'arma da fuoco.